Cioè è completamente schiacciata sull'arbitraggio, anche sul ritorno, insomma. A Sky e a 27 perché ho tre anni di diritti che mi sono comprato e che non ho pagato, se li paga sempre Sky, sia del cinema che del calcio. Ma qui c'è stato un fenomeno, sapete come la penso voi ovviamente, però forse lì in questi ultimi vent'anni in questo paese, devo dire che c'è stato un unico grande fenomeno che si chiama Figlio Berlusconi, tanto per l'appello. Questo ovviamente gli ha accattato a tutti, a me che i primi. E' vero, è vero. E' fare un'operazione tipo Sabatino, che per 12 milioni, adesso per rispettarlo ne devono pagare altri 35-40, voglio vedere come va a finire. Se no, un altro attaccante che potrebbe fare a casa della Roma, abbiamo visto che di sera, ma se ne abbiamo conosce bene, Bacca del Sivilla. Eh, Bacca. Se no, non manca un bel giocatore. Non ho capito il nome, però. Bacca, Bacca, Bacca del Sivilla. Ah, Bacca, Bacca, no, ho capito Bacca, siccome ce ne sono tante, allora pensavo di un po' gruppo, un po' atto. Sentite, mezzanotte dobbiamo chiudere, però prima di chiudere, qui c'è Antonio Galletti che vi fa sempre delle domande, quindi risponde, se no mi si offende. Allora, come vedete, Perotti del Genova. Ah, è un grande giocatore, è un grande giocatore. È un buon giocatore. È un buon giocatore che io in prospettiva le valide come uno che può fare, poi, passare dal buon giocatore al grandissimo, al grande giocatore, al top player, di quelli, c'è il 5%, no? Però può succedere, però è un giocatore che ha delle caratteristiche molto interessanti. Quindi per la Roma andrebbe bene. In Genova quest'anno c'ha dei giocatori con grandi caratteristiche, insomma. Sì, è stesso Ghiago, Ghiago Farc, Ghiago Farc, Ghiago Farc, Ghiago Farc, Ghiago Farc, hanno fatto non so quanti gol e hanno fatto anche la mia fortuna in un campionato in un fantagalcio di fastrato, devo dire, no? Però lo chiediamo. Sarebbe un'operazione intelligente, vendere Ghiaggia 12-15 milioni e prendere Perotti, io penso che con 6-7 milioni si possa staccato a salvo biscotti, a salvo Ghiaggia. Esatto. Vabbè, però sai, c'è la rassicceria, quindi dipende. Però insomma, a me non era una volta che facevano i biscotti, però si sentivano pure i giocatori. Adesso dovevo facciare una faccia come il culo che fa veramente le relazioni, francamente. Io mi vergognerei a fare fatte come sono state fatte. E poi, reiterate nel tempo, io poi chiudo, ma cioè, sentendo un po' pure le radio romane, sto diventando, io anche adesso non le sentivo, quindi mi ero abbastanza disintossicato. Passandomi un po' prima per, diciamo, impegnare, però ogni tanto ti sento, cioè, veramente il giudizio del sitato di questa gente, perché hai dato le radio, però quando va bene ho bene tutto. Ormai c'è proprio la musichetta della famiglia Adams, prima delle parole di Baldissone, cioè, fa diventare, ma quello che ha detto Baldissone, ragazzi, a me non ha lasciato. È gravissimo, guarda, è gravissimo. Una cosa di una gravità unica, cioè, allo Stato ci vado io, in televisione, la televisione ha diritti di cui ho un po' io, anche se scresano delle testa di cazzo per come si sono comportati nei miei confronti, ma questo è un altro discorso. È di fare le questioni personali. Esatto. Ma se possiamo parlare abbastanza liberamente, almeno catteggiamo fra di noi, non ce ne voglia che lo letti. Però io dico veramente, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ma questo qui, voi andate allo stadio, fate pippa, questo è il senso. Ma come ti permette? Ma chi sei? Fino all'altro giorno facevi le partite, adesso hai fatto sparire da Facebook le fotografie con la maglietta della Lazio, no? Perché giocati come troviamo noi tra amici, io no perché, quando ho smesso ho smesso, però, tipo Cassiello, questi qui che vanno anche, tutti i poverini. Esatto, ancora ci provano, mi fanno anche abbastanza tenerezza. Però si mettono la maglietta di Bruzza ancora, no, sta roba. E così, se qua giravano le magliette di Stancovi, c'è sta roba qua. No, tutti i sorridenti, tutti i ragazzi, no, più o meno. Beh, ma di che sennò, mi viene a fare due le lezioni a me. Cioè, ma ragazzi, no. Stendiamo un vero piuttosto, poi risentiremo quando faremo, ci faremo una chiacchierata su risultare, perché tanto ogni domenica ce n'è una che noi vediamo come va a fine. Stavolta, al contrario di altri anni, la sto prendendo meno, come dire, mi incazzo di meno e voglio vedere il coraggio e a che punto vogliono arrivare questi qua. Perché è proprio veramente, sono curioso di vedere che faccia hanno questi qua e dove arriveranno, e dove saranno capaci di arrivare. E dove la bifoteria della Roma ti permetterà di arrivare. Io poi spero che, come se fosse un passaggio, di maniera civile e democratica, se vado a contestare fuori dal piazzale di Noiola, come facendo in tante altre occasioni, non c'erano sempre. E quindi, siccome non posso permettere di che ho contestato pure senza, quindi non posso permettere di contestare questi metri ciattoni che ci sono a piede libero, quindi, quando sarà, mi permetterò di andarle a contestare sempre giudatamente e civilmente, perché, voglio dire, posso fare malversazioni di carattere politica, a maggior ragione posso contestare le mie avversità nei confronti di una diligenza che sta comportando come si sta comportando e sta permettendo certi atteggiamenti e certi comportamenti da parte di loro tesserati e loro dipendenti e impiegati. Sì, anche perché io non vorrei vedere le scene che poi dovessimo riuscire a segnare, cosa è sempre più difficile in queste settimane, contro due squadre che non hanno messo nulla per vedere al campionato, un miglior perdito, anche con il Palermo di Medio, sono due partite che il pronostico dovrebbe essere qui, che purtroppo così non è, vedere le risultanze polemiche tipo Pjanic con il Napoli, che finisce un gol da 5 metri dalla porta, che, onestamente, io avevo fatto la stessa maniera, e risultare dopo una stagione perdicola in quella maniera, come per dire, ecco, avete visto che sono io, non c'hai dimostrato qua di niente, hai segnato due, tre gol a stagione con posizioni bellissime sotto l'incrocio dei panni, dopo di che i grandi giocatori sono altri, che stanno ancora, hanno giocato ancora durante la settimana in Champions League in questi ultimi mesi, quelli sono i grandi giocatori. Tu sei un bel giocatore, puoi essere un compagno per una grandissima squadra, fare il tocchetto, fare il tunnel, fare il numero, ma purtroppo a Roma serve altro, serve chi fa legno con qualità, e non servono gli artisti del una volta ogni dieci, servono altri, forse. Va bene ragazzi, dobbiamo chiudere, grazie, ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto, un saluto all'altro, a Gruppiella, a tutti quanti, a Gruppiella, a tutti quanti, a tutti quanti, a salutare il nostro amico, sì, esatto, Philippe Gruppiella, va bene? Gruppiella 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 Gruppiella, va bene, è anche amico tuo, quindi, chi è? Ma di chi? Ciao, povero Moroni che ti sopporta e... Ma di Gruppiella? ...di una compagnia. Gruppiella, Gruppiella, Gruppiella. Sì, esatto, no Moroni, dicevo Moroni. Ah beh, Moroni sta qui e Moroni... Ah no, perché troppo sono la tua, però... Vi saluta, vi saluta anche... Aspetta che gli apriamo il microfono eh... Buonasera a tutti. Ciao, buonanotte e buonanotte. Ciao, buonanotte. Che cazzo che abbiamo detto stasera. Neanche, neanche avete riconosciuto... Un abbraccio a tutti. Sulla fiducia. Vabbè, un abbraccio a tutti sulla fiducia. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Vabbè, sulla fiducia. Sto proprio antiparica a Palungo. Non era facile. Davide, Antonio Galletti ci dice anche i basket del Palermo. Credo che lì ci vogliano i soldoni per prenderlo. Sì, quello di prima, no? Vai. Discorso dei portieri, diceva prima. Ecco. Si sta trattando anche per un certo Asmir Bekovic, che è il portiere dello Stock City. Sì. Ti è interessato anche il Chelsea, però la Roma ha quel piccolo vantaggio, che con noi giocherebbe il dolare. Al Chelsea farebbe il secondo di Courtois, che significa farsi cinque partitelle in Coppa durante l'anno, se non c'è infortuni. È di un classe 87, quindi 27 anni. Non è male come giocatore. Anche Berotti è classe 88. In teoria è più piccolo di Messi che classe 87. Io lo facevo un po' più grande. Io me lo ricordo da quando era veramente giovane al Sevilla, perché poi lui viene dall'Argentina, ma praticamente si informa a Sevilla, perché sta nelle regioni del Deportivo Moron. Guarda un po'. Tu sapevi che c'avevi una squadra Deportivo Moron, Club Deportivo Moron. C'è, 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 c'è storia di maggioranza. E' di Moron, in Buenos Aires. In modo che lo chiede Alberto Purinori, Moron è una città di realizzazione, si guarda in provincia di Buenos Aires. Quanti abitanti fa? 92.000. Bene, Moron, Deportivo Moron, arriva in Italia, arriva in Espagna nel 2007, gioca nel Sevilla Atletico, che è il Sevilla Bay, e dal 2007-2009 e poi nel 2008, insomma, 20 anni, esordisce in prima squadra, 117 partite, 9 gol per... Ne hanno fatti pochi, non tanti, Diego Perotti, ma giocava in una posizione un po' più... un po' più interna, sì, un po' più centrocampista, Diego Perotti. Comunque a me piaceva molto. Stava col Sevilla e è andato adesso al Genova. Secondo me sì, potrebbe essere una... una buona... Subodice, vedrei bene pure Subodice, Subodice, però io potrei vedere pure al Barca, caro Antonio, non lo vedrei bene solamente al... al... alla Roma. Alla Roma. Beh, sì, è un buon giocatore, eh? Esattamente. Poi qui guardavo, tornando al discorso, Barcellona, il tridente attacco Neymar Messi su Arez, che non solo fanno molti gol, ma se la passano anche, fanno tanti assist uno con l'altro. Eh sì, eh sì, è uno dei punti di forza del Barca, che è arrivato a un... a tutto già pronto, no? Eh sì, sì. Apriamo il microfono. Ha fatto i compiti a casa e... Averto? Io ci... Buonania a Toton. Buonania a Toton. Buonania a te. Ecco, però si sta quasi per dormire come me. Eh, va bene, però facciamo una pausa, se noi i nostri ascoltatori dopo questo lungo castiello... Monologo di... Palumbo. Eh, Dio. Questo lungo castiello Palumbo, eh... Caro Davide. Beh, io invece lo trovo sempre molto interessante, tant'è che mi è interessato venire qui dal vivo proprio per ascoltarlo. Ah, no, va così. È vero. Non si sa se... La verità. No, no, no. Speravo anche di trovarlo qui. Però... Adesso vuoi tro... Adesso... Tu vuoi troppo dalla vita. Ognuno spera che i propri desideri si avvengiano. Oh, madre di Dio. Purtroppo non abbiamo i requisiti di sicurezza necessari per fermare i fan fuori, no? Quindi... Non ce l'ho accettato giusto per questo. Adesso... Adesso... Ripeto, mi sembra... Mi sembra eccessivo. Va bene, sentite. Andiamo un attimo. Allora, però ha cominciato lui, mica io. Sì, no, per carità. Io non... Infatti, non sto dicendo. No, no, scherzato. Non sto dicendo. Non sto dicendo. Comunque è molto meglio quando prende in giro la Lazio. Chi? Oggi si è tenuto Palumbo. Palumbo è arrabbiato con la Roma, quindi... Eh, sì. Ha tutte le santissime... No, 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 no. Spero che questo processo venga fatto anche con il raggiungimento del secondo posto. Tutto quello che dice Sobaldistoni poi sono d'accordissimo con lui. In cesto, in cesto, in cesto, in cesto. Va bene, dai, andiamo nella... della pausa e poi dopo rientriamo perché di Cosmo freme e con le sue scommesse deve darci ovviamente il 4-1 dell'Atletico Madrid viene nei confronti del Barça. Rientriamo sul giro. Buon viaggio che sia un'andata o un ritorno che sia una vita o solo un giorno che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada amore mio comunque vada fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio lasciare tutto indietro e andare partire per ricominciare e non c'è niente di più vero di un miraggio e per quanta strada ancora c'è da fare amerai il finale. Shedalove 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 Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano e che le stelle puoi guardarle solo da lontano ti aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio lasciare tutto indietro e andare partire per ricominciare che se ci pensi siamo solo di passaggio e per quanta strada ancora c'è da fare amerai il finale. Shedalove 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 Il mondo è solo un mare di parole e come un pesce puoi notare solamente quando le onde sono buone e per quanto sia difficile spiegare non è importante